Mi serve un quadruplo con ghiaccio. Cosa che non va alla macchina? Facciamo così. Io ti aggiusto la macchina del caffè, poi tu mi fai quel caffè e mi chiami un taxi. L'infuso è per chi odia se stesso e sa che la sua vita non ha alcun significato. Non ho paura di spezzare qualche dito. So di essere testarda, egoista e ossessiva. Mi accompagni alla stazione dei treni, ti ricompenserò come si deve. Per come la vedo io, hai due opzioni. Opzione 1. Ti rinchiudo qui per il resto del semestre. E impazzirai lentamente cercando di uscire. rovinandoti le unghie e la tua pelle liscia. E sappiamo quanto sei vanitoso. Opzione 2. Giuri eterna fedeltà a me. Siamo qui tutto il giorno? Allora mi aiuti a scappare. Non sopravviverai senza di me. Sei remissivo e debole. Quando ti guardo, mi vengono in mente queste emoticon. Pala, corda, fossa. Oh mano, mia povera e ingenua appendice. Non ho nessun peso di cui liberarmi e non mi piegherò al tuo ricatto emotivo. Tu fanne parola con qualcuno e sarà la tua fine.